La Rassegna Stampa La Rassegna Stampa Un altro denunciato, sequestrati un chilo di hashish, diverse dosi di eroina e oltre 4.000 euro in contanti frutto dell'attività di spaccio. Il bilancio di una brillante operazione antidroga portata a termine dalla Polizia Ferroviaria di Campobasso nelle scorse ore, un duro colpo al mercato dello spaccio sempre più fiorente in Molise e in particolare nel capologo di Regione. Ad insospettire la Prolfer l'atteggiamento dei due ragazzi che continuavano a girovagare nei pressi della stazione e l'andi rivieni di molti giovani. Da lì la decisione di fermarli. Il 27enne si è subito mostrato collaborativo consegnando spontaneamente alle forze dell'ordine una bustina con all'interno dell'eroina spiegando che la dose 0,22 grammi fosse per uso personale. Meno collaborativo il 23enne, sottoposto a perquisizione personale negli slip, nascondeva 28 grammi di eroina e 250 euro. Inevitabile andare a spulciare la sua abitazione nella periferia della città. Nel sellino del motorino parcheggiato in garage, gli uomini dell'ispettore Vincenzo Ruscica hanno trovato e sequestrato circa un chilo di hashish suddiviso in otto panetti, mentre in camera da letto il 23enne in un borsello nascondeva 4.170 euro. Il più giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di via Cavour, l'altro se l'è cavata con una denuncia. Ed ora la politica. Il presidente della regione Donato Toma è alle prese con le fibrillazioni della sua maggioranza. La giornata è granitica, dice e prova in questo modo a smorzare le polemiche, ma il rimpasto di giunta appare inevitabile. Quanto al nuovo governo nazionale, il governatore ritiene che Conte sia una figura di garanzia per il Molise ancora. Pierluigi Boraggine. Cambia l'esecutivo, cambiano i ministri, ma il riferimento del Molise, il garante del rapporto istituzionale tra la regione e il governo centrale, per il governatore Donato Toma è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Io ho un buon rapporto, ottimo direi, come si diceva in una pubblicità vecchia, antica, con il premier Conte. Lui per me è il garante per il Molise e per i rapporti Molise-Governo. I rapporti dovranno essere sotto il profilo istituzionale i migliori possibili. Io penso che ci rapporteremo molto bene. Ci sono dei ministri, devo dire, che hanno una grande esperienza. Vediamo di mettere a frutto questa esperienza anche per il Molise. Una figura di grande garanzia, a prescindere dal colore politico, ma la sensazione è che più che con Roma, Toma avrà problemi a Campobasso, con la sua maggioranza di governo in continua fibrillazione, nonostante l'opera quasi quotidiana del presidente della regione nel gettare acqua sul fuoco delle polemiche. La maggioranza in regione è e rimane maggioranza. E' chiaro che poi nell'ambito di una coalizione c'è una dialettica anche fervida, anche focosa talvolta, fra i vari componenti della maggioranza. Ma è giusto che sia così. Noi non siamo bolshevichi sotto questo profilo, nel senso che non siamo in regimi di una volta che tutti dovevano pensarla come la pensava il capo. Il capo dà le linee di indirizzo e poi si discute. La verità è che il redder azionem, dopo l'incomprensione e eufemismo sulla provincia di Sernia, non c'è ancora stato. Niro, Micone e Patriciello pretendono chiarimenti che al momento non sono arrivati. A fornirli dovrà essere la coordinatrice di Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione. Ma il mea culpa della giovane parlamentare potrebbe non bastare a calmare le acque. Thomas sarà chiamato ad una verifica importante dell'esecutivo sulla graticola. L'assessore Luigi Mazzuto, ora che la Lega a Roma è all'opposizione, è un assessorato assegnato a Forza Italia con gli alleati che chiedono nuovi equilibri all'interno dell'esecutivo necessari per evitare la crisi di governo. E allora, adesso leggiamo invece cosa raccontano oggi i giornali regionali. Poi, come sempre, ci occuperemo delle testate nazionali. Primo piano Molise, sottosegretari, ottime chance per il Molise. Trappelano indiscrezioni da Palazzo Chigi. Il Movimento ha blindato la casella per un pentastellato. Leu e Dem fuori dai giochi. In poll, Antonio Federico, che però resta cauto, pronto, ma non è una priorità, dice. La lista è attesa per martedì. L'ultima volta, nel 2013, Sabrina De Camillis per dieci mesi nel governo Letta. A Campobasso, nuova alleanza 5 Stelle PD. Cosa accadrà in municipio? Termoli e suberi e meno turni. Settembre nero in Fiat. L'editoriale, a firma del direttore responsabile di primo piano Molise, Luca Colella, parla del centro-destra travolto dalle bugie. E nel pezzo ora si chiede la verità. Leva, sanità molisana, speranza, interlocutore con le orecchie giuste. Pure il senatore Di Marzio apre un credito al ministro. Costruiremo qualcosa di buono. Gam, Guia, Federico, sollecita un vertice a mise e lavoro. Isernia, strisce blu. Lunedì, sit-in in prefettura. La cronaca, con il servizio d'apertura di questa rassegna stampa, parla dell'eroina negli slip e del chilo di hashish nella sella della motocicletta di un 23enne di Campobasso, arrestato dalla polizia ferroviaria. Ricerca escort online, regione, fanalino di coda. Poi lo sport, la grinta di Candellori, ex contro il notaresco, il duttile lupo, gruppo coeso per gli obiettivi. Agnone, lavoro sulla psiche, fra botta serve un approccio diverso. Basto Girardi, pronto a confermarsi contro la Iesina. Il quotidiano del Molise, Gam, i lavoratori chiedono un tavolo urgente al mese. Sit-in, dinanzi al palazzo del governo. C'erano anche rappresentanti sindacali, politici e il vescovo Bregantini. Chiesta la presenza a Roma anche del gruppo Amadori. Altra cassa integrazione in Fiat, ma i motori ibridi non partono. La penitenziaria trova altri cellulari in carcere. Gli oppositori delle strisce blu dal prefetto a Cadei Sernia. Conte Bissi, il neoministro provenzano vicino al Molise. Michela Fanelli saprà aiutare il nostro territorio. Scusatemi, la cronaca col paccio della Polfer, arrestato Giovane Puscher, aveva un chilo di droga. A Isernia, partita 3-7, finisce a botte. Poi la polizia trova un arsenale nella casa dell'aggressore. E adesso sì con lo sport. Tegola in casa Campobasso, infortunio alla spalla per Pizzutelli e in dubbio per Domenica. Promozione, il Ripa Limosani, tessera 3-under. Ben ti voglio, vogliamo partire bene. Calcio a 5, il 14esimo quadrangolare al Pala Unimol con Cus Lazio Roma e signor Prestito. Ci spostiamo ora sulle testate nazionali. Il giornale, pronti via Salvini, indagato, Lucano liberato, stoppa e rimpatri. Toghe e governo all'attacco, soldi per accogliere e lotta le leggi anticlandestini. Saviano alza l'asticella, vuole legalizzare la cocaina. L'esultanza della sinistra miracolata, il selfie di Franceschini fa discutere e la Cina ride di Di Maio agli esteri. L'intervento di Valerio De Molli, perché oggi non possiamo non dirci europeisti. La Renziana Bonetti se alla famiglia finisce la fam delle coppie gay. Così nasce il governo più antisionista, il ministro Fioramonti. Le manovre del Carroccio, Lega di Piazza e Palazzo, Salvini e Giorgetti divisi. Il Corriere della Sera, Conte, un nuovo patto con l'Europa. Gentiloni, commissario UE, verso gli affari economici. Primo atto sui migranti, scontro con il Friuli, Venezia Giulia. Il sottosegretario Fraccaro, basta parlare di poltrone, curriculum e formazione, una scuola per ministri. Il racconto al giuramento con la famiglia. Manager fermato, è una spia russa, protesta di Putin. Arresto a Napoli su richiesta degli Stati Uniti. Dorian, le Bamas devastate, i dispersi sono migliaia. Ricerca sui social delle persone scomparse, oltre 5.500 nomi. La Repubblica, un governo per fare pace. Giurano i ministri, il Premier Conte, basta a conflittualità. Gli esteri, secondo Di Maio, leali a Nato e Europa, ma dialogo con tutti. Il primo consiglio annulla la legge regionale antimigranti del Friuli Venezia Giulia e nomina gentiloni alla Commissione UE. Potrebbe avere l'economia. Zingaretti è una svolta, chiudiamo la stagione dell'odio. Cercello, ultimi messaggi. Prima di morire, ovviamente, si parla del carabiniere ucciso. Collega coltellato, collega coltellato. Sono le 3.16 in quella notte di mezza estate, quando arriva questo messaggio prima dell'assassinio. Il messaggero Contebis, mossa sui migranti, manovra i conti per la crescita. Primo consiglio dei ministri impugnata, la legge del Friuli sugli extracomunitari. Ira di Salvini, la legge di bilancio. Oltre 35 miliardi, tornano Industria 4.0 e le grandi opere. Gentiloni, commissario UE, verso l'economia. L'incognita europea, ok, di Parigi e Berlino, missione flessibilità. Il sud e il nord, dopo lo spacca Italia, i rischi dell'autonomia all'Emiliana, ora restituire un ruolo forte a Roma. Al Quirinale, invece, il giuramento della normalità. Il sole 24 ore fiscò 5 dossier per il governo, reddito d'impresa, IVA e fattura elettronica, IRPEF, lotta all'evasione e taglio al cuneo. Le proposte degli esperti del sole 24 ore per l'equità e l'efficienza del sistema. Tra i temi per l'esecutivo, anche recupero e tracciabilità del contante. Le sfide, codici appalti sotto esame, ma non ferma i bandi, in due mesi 9,1 miliardi. Investimenti mancati, finora ha perso lo 0,6% del prodotto interno lordo, ok a un miliardo su 11 previsti. Europa con Gentiloni, l'Italia punta alla guida degli affari economici. Vale 20 miliardi l'eredità lasciata da Tria a Gualtieri. Di Maio agli ambasciatori, Leali con Unione Europea e Nato, priorità a questione migranti. Ed ora andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport. L'Italia del Gallo è il titolo d'apertura. Belotti, trascinatore, azzurri a punteggio pieno, successo in rimonta sugli armeni, finisce 3. Ad 1, patto per Monza, Leclerc dopo Spau più fiducia, Vettel vincere qui con la rossa e due ferraristi uniti dalla missione doppietta. Derby San Siro fa già il miracolo, febbre Milan Inter venduti oltre 60 mila biglietti per il 21 settembre. Infine messi gratis, l'incredibile clausola, Leo potrebbe lasciare il Barcellona a 0 euro ogni fine stagione. Prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11 Molise Sport a mezzogiorno, Viva la musica con Gigione, alle 13 Camminando Molise, alle 14 l'appuntamento in diretta con l'informazione, alle 16 Molise Sport. Alle 17.30 Paese Mio, alle 19.30 TG News, alle 21 Conto, alla Rovescia, alle 23 l'ultimo appuntamento con l'informazione. È tutto anche per questa mattina, grazie come sempre per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento di giornata.